È Francesco Picarone il nuovo presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania. La nomina è finalmente arrivata dopo una lunga riunione, tenutasi a Napoli in vista della seduta del Consiglio regionale. La presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio, ha così insediato la Commissione Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, che guidata dal consigliere Francesco Moxedano, ha proceduto all'elezione del proprio ufficio di presidenza. 32 voti sono serviti a Francesco Picarone per essere eletto, che soddisfatto ha dichiarato. È un ruolo di grande responsabilità, in quanto la Commissione Bilancio ha grande valenza per lo sviluppo, per il lavoro e per la crescita del territorio della Campania. Spero vivamente in una collaborazione di tutti nell'interesse della nostra regione. Il neopresidente Picarone ha poi continuato. Ringrazio il neogovernatore Vincenzo De Luca ed i colleghi per la fiducia ottenuta. La Commissione si riunirà in giornata per esaminare le variazioni di bilancio, tesa alla ricostruzione del Fondo per le disabilità e iscritta all'ordine del giorno.